Ciao a tutti ragazzi ben trovati nel mio canale Vi pubblico una partita fatta durante la live su Twitch Dove praticamente un terzo della lobby l'ho demolita Solo che poi alla fine giustamente deve succedere l'imprevisto Pertanto prima di guardare il video ti ricordo di lasciare like e iscriverti al canale E ti ricordo che siamo in live su Twitch dalle 21.30 in poi E' strano non c'è nessuno Molto strano Ahia Ahia C'è uno Ahah Vado Allora Wab è stata uscita come i pazzi Amorito da quello Cazzo Oh do Forse non ce n'è più forse conviene comprare le armi ma ce n'è una Eccolo qua il bastardo Ne avrai mai Minchia sono rilasso con un pello di vita Eh guarda qua Ecco guardo Vaffanculo Minchia si Vi odio vi odio quando mi aspettate così Con questa arma scioglie la persona Allora Minchia ce l'ho Ma la tengo pure Ho sentito i passi Io lo odio con questo posto Inchia una merda Tutti che stanno a cantare con i c'è Esatto Dove sei? Dov'è? Muoio sicuro Dexter Che le faccio Vado a prendermi con la thai Vado a piuere con la thai E già in confronto ieri sera Un'altra storia La partita Oh mi hanno interrotto un mortaio Come cazzo Che stai facendo fratai Non mi avrete mai Vado a prendermi con la thai E che mi sparo? Sì vici Ottima dico io Non ci penso io Al povera Tornate al carrello Oh fra Oh laserato Non ci credo Si è buggato Piccio Adesso non mi fa Vediamo che è una cosa normale Niente St'arma scioglie Piccio Come si fa? Compa se ti posso consigliare Questa super arma Che mi sono fatto il TAC Veramente forte Allora questi sono i bot E sinceramente Non me ne fotte niente Per ogni volta Poi ci muoio Con sti botti Che cazzo è questo? Dai Vedi per una taglia Che cosa devo fare? Ti vedo Ti vedo Ah Che pirla non mi ha finito No vabbè Ma questo è un pirla Dai Ma che scemo C'è da uscire pazzi Veramente Vado a pierre massima Allerta Non ci credo Non ci credo Quest'arma è fortissima Devo tirare Non guardi subito No Sono morto Sono morto Anfame Anfame Odirla Passima allerta Faccio Poi 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 A pushare Prima questa E poi Tornò dietro Da quei due Ah, godo Ah, forse Dovete togliere il vizio di camperare Sono morto, sicuro No, sono morto Sono cagato addosso Madonna, che sto combinando C'è ancora gente Oh no Niente, io sto impazzendo Questa è la mia partita Questa è la mia partita Oh, madonna, sono morto, vi giuro Niente, sta partita è difficilissima Mancò auto, resticcio, sono morto Da questo come lo faccio Oh, non mi via No Non ci posso credere È una partita pazzesca Guarda come mi deve fare quello No, vabbè Minchia, il delirio Quinto Stavo distruggendo una lobby Minchia, veramente 17 kill Ormai sta partita Ormai sta partita Me la devo seguire Contenti Non lo devo fare Se vince questo con 4 kill Mi incazzo Ma dove va Ma che cretino Cioè Mi ha rovinato la partita A me per fare così Sì Sì Io veramente Mi incazzo Ditemi se non è una partita Grattata Rubatissima 17 kill Dai Va bene Va benissimo Così Peccato Se il video ti è piaciuto Come sempre Ti ricordo di lasciare like Iscrivervi al canale E venirmi a seguire Anche sul canale di Twitch Dove siamo in live Ogni sera Dalle 21.30 in poi Ci vediamo alla prossima Ciao Ciao